Cardelli, è arrivata la tanto attesa notizia che i gestori di discoteche e locali da ballo aspettavano. Nel nuovo decreto firmato dal Presidente del Consiglio c'è la riapertura al 50% delle discoteche. Siete soddisfatti? Forse le discoteche grandi, che in Abruzzo non ci sono, possono riaprire e fare da 3.000 persone a 1.500 persone. Quelle piccoline che hanno 300, 200, 400 posti, come da articolo 68 a articolo 80, hanno ancora grandi difficoltà. Però è un inizio, io lo prendo come buon auspicio perché credo che sia l'inizio di una situazione che si sta assestando e quindi nel breve tempo si potrebbe arrivare anche al 75% se non al 100% delle capienze. Il protocollo però prevede controlli serrati all'interno dei locali, soprattutto per quelli al chiuso. Sarà difficile gestire questo fatto della mascherina che mi sembra un po' un'altra farsa, perché non indossare la mascherina mentre si balla e indossarla mentre si cammina per andare al bagno piuttosto che al bar. Mi sembra una cosa un po' strana, però è soprattutto di difficile gestione. Però, ripeto, io prendo il positivo da questa storia. Però i danni che il settore ha subito in questi due anni sono davvero ingenti? I ristoranti con annessa sala d'abballo, non avendo la sala d'abballo come attività prevalente, ma avendo perso tanto fatturato, non hanno beneficiato di nulla, neanche 5 centesimi. Le discoteche, sale d'abballo, prettamente discoteche, qualcosa è arrivato, ma pari forse al 10% del mancato fatturato, quasi ormai due anni, perché a marzo saranno due anni. Diciamo la verità, l'intrattenimento in generale è sempre stato il capo espiatorio di tante problematiche che in realtà sono gestibili in altri modi. Comunque tengo a precisare che sicuramente una cosa dovrà cambiare a Pescara, che questa ordinanza in vigore non può essere applicata alla discoteca, prima di tutto perché non è giusto, si parla di due tipi di licenze diverse. e quindi aspettiamo anche che l'amministrazione emani un'ordinanza con il relativo orario di chiusura e di apertura delle discoteche, perché l'1.30 sarebbe un'ulteriore mannaia sopra i locali d'abballo, perché chiaramente l'1.30 non ha senso che aprano.